oggi voglio di solito mi faccio gli affari miei non parlo di niente però oggi è successa una cosa che mi ha un po toccato è morto youtube anche io che se quando ricevi notizie del genere pensi sempre alla notizia fake e invece sembrerebbe che sia vero vero davvero anzi probabilmente è proprio vero ed è una cosa che a me ha dispiaciuto veramente penso che lo conoscerete quasi tutti era un canale era un ragazzo un po grande un uomo che faceva video ha iniziato facendo video di mukbang mangiava e poi però ha fatto anche tante altre cose infatti quello che io posso dire su di lui è che spero che lui venga ricordato non tanto per i video dove mangiava perché non era solo quello lui era una persona di grande cultura e parlava con un con un con un linguaggio molto forbito e era veramente una persona particolare è arrivato a fare mi ricordo fatto dei video dove parlava di cose raccontava storie e quasi insegnava degli aneddoti di vita che incuriosivano parecchio anche me insomma ho un po più anni di voi quindi magari posso rimanere meno impressionato da dalle storie degli altri no perché ne ho sentite un po di più però comunque le sue storie mi mi sono rimaste impresse mi ricordo un video dove spiegava raccontava un capitolo di storia no ed era ed era particolare era un bel video quindi secondo me lui merita di restare ricordato non tanto per le mangiate ma per questo genere di personalità che ha condiviso sul suo canale ed è stata una cosa molto unica è stata una cosa unica quindi mi dispiace veramente aveva smesso di fare video ma probabilmente io penso che prima o poi sarebbe ritornato perché youtube è difficile da abbandonare definitivamente ragazzi purtroppo la vita è così è purtroppo la vita è così bisogna farci un po l'abitudine quindi niente volevo dedicargli due parole e ricordarlo così con affetto insieme a voi sono sicuro che molti lo conoscevano veniva chiamato maestro ed era uno dei pochi che meritava di essere chiamato così perché veramente nel suo piccolo ha insegnato qualcosa a per la per youtube ci sta cazzo sta grande spam df ma adesso voglio vedere youtube le ultime voci su omar palermo youtube anche io è morto però c'è scritto bufale bufale punto net ragazzi che cazzo di sito è non mi sembra tanto affidabile con tutto il rispetto 18 agosto 2021 nella casa di cura tirrenia hospital ex tricarico in belvedere marittimo improvvisamente è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari il giovane omar palermo di 42 anni ne danno il triste annuncio il papà antonio il nonno ferdinando cosentino gli zii cugini ed i parenti tutti i funerali saranno celebrati venerdì 20 agosto 2021 alle ore 11 nella chiesa di san bartolomeo rossano paese dispiace veramente grave perdita per la scena italiana youtubeica o